Allora, Outlast! Iniziamo questa nuova avventura. Outlast contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale e linguaggio esplicito. Buon divertimento. Qua non mi fa paura. Guarda, alzo un po' lo volume perché penso che non faccia proprio paura. Non mi conosci, devo fare in fretta. Forse mi controllano. Ho lavorato due settimane con solente informatico. Chiudi. Ok. Ma sta roba non fa paura, raga. Cioè, c'è un castello di Conte Dracula che sembra però un manicomio. Gli obiettivi... Che cazzo ed è? Oh, porco. Qua non c'è niente da controllare. Praticamente qua c'è stato un manicomio, no? Che dè? Andiamo a vedere che c'è stato qua, no? Qua a destra, credo. Per aprire... N per leggerla. Solo qual è il manicomio, il massive... Ok. Faccio questi. Ma fa paura qua? C'è nessuno? Non si può abboccare da qua. E quindi come fai? Cad'è qua? Ah, qua c'è stata la cosa qua. Ok. Qua si può abboccare qua dentro? Chiuso. Che pareva la madonna. Qua ci sta una scala. Ok. Qua ci arrabbichiamo. È una parola. Qua è una parola. Qua, oh. Qua vai dritto, ben dritto. Qua. Ma que... Non fa paura sto Yoko, ragazzi. Cioè... Perché sto... Porco Dio, padre... Scusatemi, no, no, non fa paura. Cioè, non è uno spavento, tranquilli. Non fa paura. Non fa paura. No, no, no. Non fa paura. Allora, qua che d'è? Ci sta qua dentro. Che d'è? Prelenco viene a Jay. Ok. La diagnosi. Ok. Ci sta una specie di malformazione. Non so, ho capito. Boh. Andiamo. Madonna, ma che d'è? Oh, è il... Ma che d'è? Ah, bisogna andare dentro. Bisogna andare. Si è capito, tu? Oh, porco Dio. Chi è? Chi è qui su? Oh, signor! Ma che d'è? È un manicomio davvero? È un manicomio qui su? Ma è un manicomio. Ok. Salvataggio. Non fa paura. Porco Dio. La P***. La P***. P***. Porco Dio. Lo che era? La porco. La porco. Non fa paura. Non fa paura. No, no, non, non fa paura. Porco De la ****. Ecco la porca. C'e data. C'e data. La porca. Io ho capito, provanzo. Allora, no, no. Prima, no. Prima, hm. Oh raga che cazzo è Oh raga mi ha fatto pia La bella doga porca troia Va bene Sarà stato un caso che mi ha fatto pia Una paralisi dai chiede qua Chiede qui su un bollo Oh la madonna Ho capito il BDSM Ma qui sto già con questi estremi figlio Eh come Eh Ci hanno uccisi sono fuggiti Mutati Non vuoi batterli devi nasconderti Eh ok so capito figlio Mi dispiace Eh ok mi dispiace per te Eh figlio mio che ti devo dire Chiede qua Oh eh apri la porta Oh dio C'è qualcuno qua sicuro Oh so capito che c'hai l'unfiatone Però non ho un fiatacucci Mamma mia Chiede qua C'è nessù Oh la madonna Ci sta un braccio qua dentro Donne Da qua non se passa E per forza all'ide Sì ma qua fa più ancora Bucci ma poco Non è come pensavo Chi è qui su? Oh te piglia il senatore Oh Ma testa da cazzo Testa da cazzo Chi è qui su? Ma te ho cresci Duchici La chiamata Non ci sta una chiamata Sul telefono Cazzo vuole qui Su Oh Che TPS Che ci Che ci C'è fatto Che è qua Un altro libro Mi interessa Chi è qui su? Signore Mi sa che Dovevi cambiare lavoro Ma non si apre Porca la droga Non si apre mica qua Non si apre Do cazzo De voi Che è qua Una serie a rotelle Ma che madonna Che cazzo Che cazzo Oh porco Chi è qui Chi è? Ah non c'è niente qua dentro White Ness Che signore White Ness La miglior cagata Della tua vita Che deve Ma buona Chi deve Oh Come ci chiuso la porta Porca Ma chiuso la porta Ma non fate Andare paura Sto Yoko Ma chi deve Che parla Oh Chi deve Eh qua Per forza sotto Mi tocca Qua c'è l'acqua Oh Ma che devo Fa Boh Oh Ci sta No Ma non fa Tanta paura Cioè nel senso Sì ok Te fa via un po' Te fa via un po' De corpi Però non è Ti mette un po' Un po' De paura Te la mette Ma non è che fa Tutto sto Sto Con anche Qua non c'è niente Ah ecco Ci siamo un po' Sopassati Ma questo si è risveglia Guarda Eccolo che si muove Questo so sicuro Che mi fa via un corpi Vero? Vero? Dai che sto pronto Dai che sto pronto Dai fammi pia una paralisi Dai Dai lo so Sicuro che mi fa pia una parata Dai lo so E dai lo so Guarda il brutto Porca puttana E dai Oh 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 Ma questo è Ma sono fini questi Ma? Cazzo se guarda La Barbara d'Urzo E partiamo con pomeriggio 5 adesso Chi d'è qua Dai qua sto sicuro Che c'è la testa a magneti Eccola E lo sapevo io Te pia una paralisi Guarda Ma c'è io che vuoi i coglioni Qua non si può passare Qua se apri Manco lo cazzo Che ti sei in culo Orca 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 Scusatemi Scusatemi Delle bestemmie Però Ne la faccio più Io Mi ha fatto bian gorbo Mi ha fatto bian porca Troia Ci hanno scaricato Della madonna Dietro la schiena Da mettere a destra Qua dentro No Eccola Ok Meglio chiude Per sicurezza Vediamo un po' Che cosa dice qua L'umanuale Che dè Sicure di sistema Ok Vabbè Bocca dentro Un sistema Chi dè Urco Diavolo Chi dè qui su Oh Ciao Riavvia il generatore Nessima Andata errato Eh Te pareva C'è 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 Ci devo Oh No Mi metto dentro Zitto 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 Più il diavolo Il pieno De sangue Ma che dè E mo Che devo fare Io corro figlio Corro Corro E non mi fermo più Non mi fermo più Io Ok Come gatto Se c'è Nera La corrente Io Io Sì